Per un po' d'acqua perché non dimenticavo di portarla. Sono di Saga Moto. I brani di Saga Moto che suonerò sono Acqua, appunto, Energy Flow, sono tre premi Oscar in questi tempi. È un brano che io ogni volta, un anno a volte faccio cento oggetti, un anno non ne faccio neanche uno, un anno mi amo, un anno mi odio, però la musica sta sempre là, un antipioculo, il dottor Proietto. E questo brano lo tolgo ogni volta alla scaletta, basta, ma non ce lo faccio più. Poi quando in cartellone sono dei miei concerti, mi chiamo addirittura, ma lo fai quello? E allora sono costretta a Bene Christmas, Mr. Lawrence di Luigi Sakamoto. Quindi buon ascolto con questa musica superlativa di questo grande compositore giapponese. E allora sono costretta a Bene Christmas. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.